Molto più di un film è il secondo album e c'è stato un grandissimo lavoro su di lui e anche su me stessa è nato praticamente alla fine degli store tour del primo album e in questo periodo di tempo che abbiamo utilizzato per l'album sono successe un sacco di cose, mi sento cresciuta, mi sento migliore anche come persona e come artista e tutte queste trasformazioni che fanno parte della crescita appunto le ho trasferite in questo secondo album e ho scritto un bel po' di canzoni di questo album che parlano di me, di quello che sono, di quello che anche sono stata e di cose che comunque mi sono successe e rispetto al primo album appunto già è diverso il fatto che io abbia partecipato di più nella scrittura e non solo, ho partecipato anche nella parte degli arrangiamenti anche nella scelta delle take migliori, nella voce eccetera e anche a livello di sound si percepisce comunque una crescita gli arrangiamenti sono più ricchi live rendono molto di più sono comunque sono fighi live e rendono giustizia anche al disco cioè come sono registrata nel disco quindi no, allora ci abbiamo pensato da subito anche prima di avere i brani avevamo in mente e sapevamo di dover prendere questa direzione cioè pezzi più up, più movimentati e soprattutto arrangiamenti che rendessero giustizia a questo movimento dei brani e nei live secondo me ci divertiremo molto perché appunto i pezzi sono fighissimi e la band gli dà quel tocco in più io mi diverto un sacco nei live e la oddio vabbè ho fatto soltanto due live e mi sono divertita un botto con la band e tutto il pubblico quindi voglio fare i concerti per sempre perché mi diverto veramente tanto, tanto, tanto e anche il pubblico ha reagito bene nonostante la mia timidezza sul palco sono riuscita a mostrarmi un po' più per quella che sono anche magari quando sono sola con le persone che conosco quindi penso che ci divertiremo molto a live